Ciao, mi chiamo Karen, e oggi ti dirò tutto quello che devi sapere prima di acquistare Insulinorm. Ho anche due avvertimenti molto importanti, quindi prestate molta attenzione a ciò che ho da dirvi. La prima cosa da sapere è, fate attenzione al sito web da cui lo acquisterete, perché Insulinorm è venduto solo sul sito ufficiale. Per aiutarvi, ho lasciato il link al sito web ufficiale nella descrizione di questo video e anche nei commenti fissi. Che cos'è Insulinorm e funziona davvero? E la risposta è sì. Funziona e, dopo numerosi test di laboratorio, gli scienziati hanno individuato una formula naturale con ingredienti concentrati in grado di normalizzare i livelli di zucchero nel sangue, rafforzare i vasi sanguigni, ripristinare la vista, arrestare l'aumento di peso e ripristinare l'energia. Quindi sì, potete fidarvi di questo prodotto. Ci sono molte persone che hanno ottenuto ottimi risultati con Insulinorm e anche voi potete ottenerli. Tuttavia, è necessario tenere presente che ogni corpo reagisce in modo diverso. Si tratta di un'affermazione un po' ovvia, ma ve la dico perché siate realistici riguardo al vostro trattamento e alle vostre aspettative. Inoltre, affinché Insulinorm funzioni, è necessario prendere sul serio il trattamento, altrimenti non si otterranno grandi risultati e ci si sentirà un po' frustrati. Si possono notare i primi risultati nel primo mese, ma la maggior parte delle persone ottiene risultati migliori dopo tre mesi di utilizzo del prodotto. È inoltre importante sapere che Insulinorm non ha effetti collaterali perché è naturale. Quindi, ho voluto registrare questo video, innanzitutto per dirvi di fare attenzione al sito web dove state per acquistare Insulinorm e inoltre, se acquistate il prodotto, fate il trattamento esatto, prendetelo sul serio. Ricordate che i vostri risultati saranno molto diversi da quelli di chiunque altro, perché il vostro corpo agisce in modo molto particolare. Spero davvero che questo video vi abbia aiutato e spero anche che Insulinorm vi aiuti molto a migliorare la vostra vita, oltre a molti altri benefici che questo prodotto promuove.